Isola dei Famosi. Pietro Fanelli attacca duramente Vladimir Luxuria. Noi non siamo. Il pubblico sconvolto. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Un incidente ha scosso l'ultima edizione de, l'Isola dei Famosi. Coinvolgendo l'attrice Marina Suma durante una prova contro Pietro Fanelli. L'attrice è caduta. Causando preoccupazioni e sollevando polemiche sulla sicurezza del format del reality show. Marina è stata immediatamente assistita e portata in infermeria per ricevere le cure necessarie. La situazione è stata ulteriormente complicata dalle dichiarazioni di Pietro Fanelli. Che ha messo in discussione le decisioni di Vladimir Luxuria. Mi è stato chiesto di rifare la prova. E io ero consapevole dei rischi. Non volevo assolutamente farle del male. Non siamo carne da macello. Ha affermato Fanelli contro Luxuria. Esprimendo la sua frustrazione e solidarietà verso l'attrice. Vladimir Luxuria ha cercato di placare gli animi e di distribuire le responsabilità in modo equilibrato. Ho pensato che tu non avessi compreso le dinamiche del gioco. Per questo ho chiesto di rifare la prova. Non diamo la colpa a nessuno. Ha proposto. Tentando di riportare calma e serenità nello svolgimento del programma. Questo episodio ha acceso i dibattiti sulla sicurezza delle prove nel reality. Spingendo a riflessioni su possibili alternative meno pericolose che mantengano l'engagement del pubblico e la sicurezza dei concorrenti. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.